buongiorno a tutti siamo qui per iniziare lo showcase con enzo troiano e abbiamo qui appunto due suoi volumi che ora andiamo un attimino a far vedere da cosa da quale preferisci cominciare da gulliver o d'arcadia dall'ultimo andiamo all'indietro la storia di gulliver come è nata allora la storia di gulliver è nata da due esigenze io fino a ora avevo fatto sempre fumetti che erano di fantascienza o fantasy però che concentravano all'interno dei testi della denuncia sociale in questo ho cercato di prediligere più l'avventura della denuncia sociale fare un'avventura classica semplice diciamo con un cliché abbastanza rodato proprio per proprio per cambiare tutto cioè non soltanto i colori o la scelta delle delle inquadrature ma anche proprio a livello di storie fare una storia più leggera una storia che si adeguasse più alla leggerezza dei disini diciamo che tecnica hai usato ma la tecnica è semplicissima e poi sempre la stessa la base sono le matite e il disegno a mano chinato poi su questi una volta scannerizzati sono state fatte le colorazioni al computer seguendo un po' quelli che sono i cartoni animati giapponesi soprattutto a meno da parte mia c'è stato questo seguire molto il cartone animato giappone e chi sono i tuoi diciamo maestri giapponesi? i maestri giapponesi sono tantissimi diciamo che i film da cui ho cercato di attingere un po' la colorazione è stato Tokyo Godfathers di Satoshi Kon che è un capolavoro dell'animazione giapponese è una serie molto carina che si chiama Planetes è una serie che è uscita credo 6-7 anni fa altrettanto bella con delle soluzioni cromatiche particolari perché la scelta è caduta per le soluzioni cromatiche che utilizzano questi questi animatori questi artisti giapponesi che sono straordinari che secondo me sono all'avanguardia nel senso che secondo me dal giappone oggi arriva forse in assoluto i lavori migliori gli autori migliori quando purtroppo è morto Satoshi Kon qualche anno fa giovanissimo il regista questo regista straordinario in italia si è avuto qualche trafiletto ma non nessuno ne ha parlato stiamo parlando di uno dei più grandi registi del mondo non registi solo di animazione se stiamo parlando di autori di contenuti di sì autori straordinari tra l'altro a differenza degli americani altrettanto bravi pure loro i giapponesi hanno un'umiltà completamente diversa sono molto più bravi secondo me sono molto più all'avanguardia sono molto più umili di quando non siano gli americani io faccio notare una cosa a chi a chi vede i film americani per esempio quando è uscito Matrix è stato presentato in tutto il mondo come una straordinaria novità chi conosce l'animazione giapponese aveva visto Ghost in the Shell sa che Matrix non è assolutamente una novità addirittura hanno copiato la sigla di Ghost in the Shell interamente gli americani quindi questo la dice lunga sulla straordinaria secondo me avanguardia dei giapponesi cioè di come sono amanti rispetto a tutti gli altri quindi quando scrivi le tue storie o le disegni quanto c'è di te io quello che cerco nel mio piccolo di inserire nelle storie sempre un motivo di riflessione anche a volte un motivo di provocazione non solo per quello che accade tutti i giorni davanti ai nostri occhi ma poi proprio per invitare le persone a cercare quando è possibile di riflettere con la loro testa non andare sempre indietro a ciò che di moda ciò che ma cercare di essere quindi i personaggi che di solito sono protagonisti delle mie storie sono dei protagonisti che quasi sempre sono in controtendenza diciamo con quello che è il pensiero degli altri il pensiero di quelli che della massa diciamo proprio perché insomma cerco di riflettere e di far riflettere le persone che avere personalità avere un'idea propria è importante nella vita perché consente di porsi delle domande quindi anche di andare a verificare poi nel nello specifico se quello che loro vedono quello che leggono poi è reale appassionatissimo di giappone dicevi ci vai spesso mai pensato di andarci a vivere in giappone questa passione ma io io sono anche ogni tanto io sono un appassionato in generale proprio di di relazionarmi con persone che non sono della nostra nazione mi piace molto io sono un discreto cuoco mi piace moltissimo la cucina sperimentare la cucina orientale oppure cucine che vengono ad altre ma secondo me perché nell'interazione poi c'è nel c'è soprattutto il sale secondo me di ogni rapporto di ogni possibilità anche di avere di capire gli altri se noi non ci avviciniamo alle altre culture a quel loro modo di vedere le cose non riusciamo nemmeno a interagire sono d'accordo riguardo ai personaggi ma i personaggi sono venuti fuori da subito qualcuno si è aggiunto dopo io di solito i personaggi sono diciamo un po il sale delle storie per me io forse la prima cosa che realizzo sono i personaggi ma ancora delle storie faccio un crea un mondo di personaggi che mi ispira che secondo me potrebbe essere quello che saranno i protagonisti delle storie ne individuo alcuni che possono essere quelli diciamo fra virgolette principali e quelli che invece possono essere quelli secondari e dopodiché da lì parte l'idea di di creare poi il fumetto in base a questi personaggi ora parliamo invece un attimino di arcadia sì arcadia è stato un lavoro che è risata circa quattro anni fa il primo è stato uno di il quarto lavoro che io ho pubblicato colorato il quarto cartonato che è uscito dopo diversi anni di lavoro che è iniziato nel 2005 prima con albatross edizioni poi ecco ha continuato con botte redizioni ed è un cartonato su un po sullo stile di frezzato liberatore che sono poi dei colleghi non tanto tanino liberatore ma frezzato per coi tanio mio con cui abbiamo iniziato abbiamo condividevamo gli stessi gusti le stesse le stesse idee quindi il lavoro si diciamo si è svolto più o meno su questa falsa riga cioè questi disegni colorati a mano con pittorici con un inquadrature quasi tutti sembrano come se fossero dei piccoli quadri questo per esempio una citazione di un quadro di cliente per esempio fa rifatto con con i personaggi del fumetto bellissimo quando è ora che te hai scoperto e di volere diventare chi sei cioè l'artista io sono capito che te avresti fatto il disegnatore intanto io sono sempre un ricercatore un po come gulliver in cerca di trovare soluzioni non mi sembra assolutamente un artista arrivato perché non vabbè ma quando è che hai capito che sarebbe stato un episodio tra l'altro è stato grazie a di landog io avevo 20 anni penso 20 21 anni facevo recupero crediti presso un avvocato e quindi non hai fatto scuola artistica non ho fatto nessuna scuola artista sono ragioniere io e tu cioè te sei autodidatta all'epoca non esistevano gli eurostar di treni veloce c'era il treno che ci metteva tre ore da napoli a roma io per passare un po di tempo comprai in edicola e credo che fosse il numero 5 gli uccisori di di landoghi nel caso nel treno incontrai un ragazzo che faceva il militare che mi disse a questo a questa serie disegna un mio amico collega che che poi tra l'altro è diventato un carissimo amico mio che claudio castellini che all'epoca faceva il militare mi dice se sto ragazzo disegna di landog lui ha vinto un concorso e mi sono interessato a quel punto che poi lui ha vinto lo stesso concorso che ho vinto anch'io che era prato che si faceva fino penso che l'avranno fatto fino al 96 97 e dove hanno vinto luca enoch frezzato castellini insomma tamiazzo io insomma tutti quelli che oggi fanno i professionisti sono passati per prato dicevi tornando a gulliver che l'hai fatto in un momento in cui anche tu hai detto stavi facendo un viaggio tuo cioè di crescita ho proprio fatto un viaggio vero noi vinciando io sono sono bimbi definisco un autore sempre in viaggio nel senso che cerco sempre di tanto proprio di viaggiare molto ma poi proprio di girare sempre vedere le cose dei colleghi io mi incanto a vedere che non sono simone bianchi che fa un quadro oppure capire dell'otto oppure frezzato che disegna dal vivo e non ho mai guardato un collega con invidia riguardo sempre con ammirazione cercando sempre di vedere modi diversi non necessariamente di imparare soltanto ma proprio di vedere un modo diverso di concepire il lavoro di concepire il disegno e di gulliver cos'è che ami di più in particolare di cosa sei particolarmente orgoglioso ma di questo è una citazione di cowboy bebop sarà la cosa più semplice di tutto più grafica ma questa qui che mi piace di tutti cioè questa specie di pagina diciamo pubblicitaria del questo in realtà non è niente è semplicemente un frontespizio ma mi è piaciuto molto perché richiama un po la la sigla di cowboy bebop è estremamente sintetico però riesce a essere espressivo pur essendo sintetico questo mi è piaciuto tanto perché se tu vedi ci sono delle espressioni malgrado sia tutto nero cioè si colgono comunque questa è stata la cosa che mi è piaciuta di più di tutto il volume si poi diversa dalle cose che faccio io sai colorate tutte riccate questo invece molto semplice però sono riuscito a cogliere l'espressione questa è la cosa che mi è piaciuta di più vi ringrazio dell'attenzione e buona giornata a tutti grazie a enzo